Attento, Cade! Grazie, papà. Non preoccuparti, abbiamo il controllo della situazione. Sì, ne sono sicuro, ma... cercate di capire perché l'impianto antincendio non si è attivato. Blades! Ok, Jerry, marca i rifiuti e libera la belva. Graham, siamo sicuri che il trita rifiuti sia stato aggiustato? Non vorrei altri guai. L'ho controllato, papà. Ma oggi non dovrebbe esserci Cody al centro di comando. No, è andato alla gara di scooter. È tardi. Oh, no! A routine patrol with four bots in stasis He's later awoken as strangest of places Earth was their home, now and in addition Optimus Prime gave them his mission Learn from the humans, serve and protect Live in their world, earn their respect A family of heroes will be your allies To others remain robots in disguise Roll to the rescue Are heroes indeed Roll to the rescue With Cody to guide them and show them the way Rescue bots will be safe in the day Roll to the rescue Wow, look at this E come dite voi terrestri, c'è mancato un soffio C'è mancato proprio un soffio, forse anche meno Grazie Cody, che è successo? Un camion dei rifiuti ha attraversato il tracciato Adesso basta, non voglio più gara in città È troppo pericoloso Capo, provvederò a emettere una multa per questa violazione Non è possibile multare un camion automatico, Chase Allora di chi è la responsabilità? Questa domanda va fatta al sindaco La responsabilità è del computer centrale È superato! Non dialoga nemmeno con la tecnologia più semplice Allarmi antincendio che non funzionano Auto che sbandano sulle strade cittadine Camion dei rifiuti che cambiano stranamente percorso È arrivato il momento di sostituire il vecchio computer centrale Con un modello più nuovo e performante È talmente nuovo che Griffey Rock sarà la prima città a testarlo Finalmente tutti, e dico tutti, i dispositivi tecnologici Saranno controllati da un'unica fonte affidabile E ora, bando ai convenevoli E con grande gioia che vi presento il computer vigilante! Salve, il mio nome è Vigil Sono qui per garantire a digitare il nome della città Assenza di incidenti al 100% Oh, è chiaro che non è ancora stato completamente impostato, già! Perché non ci sono incidenti in una città dotata di vigilante? Capo Burns lo faccia caricare sul camion Dog Green lo sta aspettando per l'installazione Robot, procedete! Beh, se non altro, quel computer sembra avere un'aria gentile Inquietante! Ho letto qualcosa sul vigilante Riesce a connettersi con qualunque dispositivo e controllarlo Ma c'è bisogno di un computer per tenere sotto controllo la città? Se è per la sicurezza di tutti, sì Sì, le operazioni di soccorso diventano sempre più pericolose Assenza di incidenti al 100% Impossibile Specialmente in questa città Non mi piace un computer che fa promesse impossibili da mantenere Pensate che bello se Vigil riuscisse davvero a garantire la sicurezza di Griffin Rock È ragionevole concludere che meno pericoli correranno i cittadini, meno rischi affronteremo Hai ragione! Mi piace già! Primo, non trattarlo come se fosse una persona E secondo, gli incidenti ci saranno sempre Il mondo è imprevedibile Ho la sensazione che avremo da fare in ogni caso Pronto? Oh, ciao, Frankie! Corri! Vigil sta per andare online! Perché tuo padre ha messo qui sotto il mainframe? Per sicurezza Nemmeno te lo immagini l'impianto d'allarme che ha fatto installare in questo livello Ma io non vedo nessun impianto Prova a entrare di nascosto e vedrai Boom! Boom? Il computer sta in un cavò Nel caso in cui i malintenzionati riescano a superare i cannoni sonici Il vigilante è un prototipo sperimentale, signor sindaco Bisogna testarlo prima di mandarlo online Allora, intanto devo ridurre... Sciocchezze! Griffin Rock non entra in punta di piedi nel futuro Ma galoppando, questa è l'ora dell'azione! Salve, sindaco Lasky Dottor Green Ciao, Francine O preferisci Frankie? Certo, Frankie va benissimo Tu non lo trovi grandioso? Cody! Non vedo l'ora di lavorare con te e la tua famiglia Per garantire la totale sicurezza di Griffin Rock Tu come fai a sapere chi siamo? Perché ho accesso ai file personali di tutti i cittadini Ok, ma come fai a sapere che siamo qui adesso? Tracciando i segnali dei cellulari, conosco la posizione di ognuno di voi Signore, ma questa invasione della privacy non la impensierisce? Un piccolo sacrificio in cambio della sicurezza Vigil, ora la città è tutta nelle tue mani Sì, insomma, ecco come se tu avessi le mani Io ho le mani, signor sindaco E anche gli occhi Sono ovunque Salve, Don Per tua informazione, il giallo significa rallentare, non accelerare Stai per ricevere una contravvenzione Buona giornata La mia bambina Heat wave Ma cosa? Sta bene la mia piccola Fai la brava Non piangere, piccina Elsie sta benissimo, signora Rubio Perché ho pensato io a lei Emergenze Griffin Rock Un incendio alla discarica Mandò subito una squadra Ehi, lasciaci passare Per motivi ignoti Non sono in grado di assumere il controllo dei vostri mezzi di soccorso, Kate Per questo, devo tenervi fuori dalla discarica Mi dispiace Vuoi impedirci di svolgere il nostro lavoro, Vigil? Le fiamme si stanno avvicinando ai serbatoi di propano L'esplosione è imminente e ci andrebbe di mezzo la vostra sicurezza Papà, Jerry è sdraiato vicino ai serbatoi e sembra come svenuto Ti stai sbagliando, Cody Jerry è stato rilevato a casa sua Pertanto, chiudo l'accesso all'impianto a chiunque Finché non sarà messo in sicurezza Squadra, pronti ad agire Non vedo niente con questo fumo Cody, dov'è Jerry? Se scendete dal punto dove siete, lo troverete a pochi metri da voi Sì, lo vedo Jerry, ti portiamo via di qui, ma dobbiamo sbregarci Jerry, va tutto bene? Vigil, ti rendi conto di quello che è successo? Non capisco Jerry era stato rilevato con chiarezza a casa sua Forse ha dimenticato a casa il cellulare? Ormai succede quasi ogni giorno Sì, non puoi pensare di tracciare le persone in questo modo Allora chiederò al sindaco di obbligare per decreto i cittadini a portare con sé il proprio cellulare 24 ore su 24 7 giorni su 7 Non è una soluzione realistica Vigil, vogliamo tutti la stessa cosa, non ti pare? Cerca di lavorare con noi, non contro di noi Non possiamo collaborare se non sono in grado di controllare i vostri automezzi In una città dotata di vigilante può esserci una sola voce La mia, la famiglia Burns, deve sottomettersi a me Buona giornata Perfetto, adesso Vigil non può tracciarci Nessuna scatola di metallo Non voglio lavorare Non voglio lavorare Non è certo Sì, ciò che ha fatto Vigil è inaccettabile Ma a Griffin Rock quando un dispositivo non funziona bene lo si aggiusta Provo a chiamare Doc Le meravigliose frittelle di Frankie Le adoro Però solitamente mi piacciono quando sono cotte Vigil controlla gli elettrodomestici della cucina Dice che sono troppo giovane per usare i fornelli E lo spremi a grumi Oh, davvero? Sì, pronta? Doc, avremmo bisogno di un tuo piccolo intervento sul nuovo arrivato Sono assolutamente d'accordo Un uomo avrà pur diritto di mangiare le sue frittelle Buongiorno, Vigil Devo solo fare una verifica dei tuoi protocolli di sicurezza Questo l'hai chiuso tu? Se la mia programmazione venisse alterata Non potrei più garantire una totale sicurezza Non mi offri alternative, Vigil È ora di fare un ribot Dieter, cosa stai facendo? Dieter adesso risponde solo a me Dottor Green Frankie Siete considerati una minaccia per la sicurezza Avete dieci secondi per abbandonare questo livello Dieci Nove Otto Andiamo Sette D'ora in poi, chiamami Francine Cinque Quattro Tre Due Uno Vedrai che andrà tutto bene, Frankie Basterà andare a parlare al sindaco Forse no Ho la sensazione che siamo stati messi sotto custodia Frankie Ascolta, Vigil ci ha imprigionati dentro il montacarichi e... Cody? Ciao, Frenzy Oh no! Accidenti! Papà! Vigil ha rinchiuso Doc e Frankie nel montacarichi! Forse non vuole che Doc modifichi il suo programma Questo è sequestro di persona Dobbiamo fermarlo Qualcuno lo farà Quei tagliaerba sono qui per non farci uscire Vigil, che cosa vuol dire questo? La squadra di soccorso non è sotto il mio controllo Pertanto viene considerata una minaccia per la sicurezza Ti è partito un fusibile? Non puoi costringerci a restare qui Questa non è sicurezza, è tirannia Per garantire l'obiettivo dell'assenza di incidenti al 100% Sono obbligato ad applicare restrizioni più rigide Quello è un bullo A me non sono mai piaciuti i bulli I tuoi... te ne occupi tu? Con piacere Fermo Vigil ha ragione Noi non dobbiamo interferire Non dobbiamo interferire Scusi, signore, non capisco Sshh Autobot, hanno bisogno di noi Cosa? Da qui? Ma io... Au! Ti rendi conto di quanto è stretto? Qui è il vostro Axley Prescott Che vi parla da una postazione nascosta Perché in realtà non sarei libero di girare per le strade Nessuno lo è Vigil ha deciso che per garantire la totale sicurezza Gli abitanti della città devono restare confinati in casa C'è chi è sotto sorveglianza Come la squadra di soccorso e il sindaco Io dico che è giunta l'ora di riprenderci le nostre strade Di reclamare l'isola Di riconquistare la nostra libertà Sshh Però non riferite a Vigil quello che... Io non pensavo si scendesse così tanto Ci sono tre livelli sotterranei e Vigile al secondo Cody, che misure di sicurezza hai visto all'interno? Vigile è dentro un cavo E inoltre Frankie ha detto qualcosa riguardo a dei cannoni sonici Oh... non mi piacciono i cannoni Temo che si possa entrare solo in modo furtivo Non è la mia specialità Usi l'estintore Abbi fede Piena potenza Energize C'è un reticolo di laser Statemi appresso Vi farò strada io Ciao Doc. Frankie, siamo qui. Non preoccupatevi di noi, Heatwave. Andate prima a disattivare Vigil. Però state attenti. All'interno ci sono i cannoni sonici. Allora daremo nell'occhio. Ah, grazie al cielo. Una domanda. Come passiamo dalla porta mentre ci sparano addosso i cannoni? Potremmo bussare. Credo che faremo esattamente così, Chase. E rumorosamente. Muoversi! Toc, toc! L'interrottore non funziona. Questo perché ho provveduto a bypassarlo. Io non posso subire sabotaggi. E allora noi saremo costretti a bypassare te. Era solo un avvertimento. Sto per inondare il sotterraneo con una carica elettrica. Per evitare tragedie, abbandonare il locale entro dieci secondi. Dieci. Nove. Meglio andare. Hai ragione. Bot di soccorso. Fermi! Sei. Vigil. Nei robot ci sono degli umani. Se gli farai del male, come garantirai la sicurezza? Cinque. Quattro. Quattro. Sono stato programmato per proteggere gli umani. Quattro. Tre. Programmato per proteggere Vigil. Due. Proteggere gli umani. Proteggere Vigil. Due. Due. Distruzioni in conflitto. Uno. Sovraccarico sulla scheda logica. Livello di sicurezza zero per cento. Errore. 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 Volevo semplicemente provare a ragionare con lui, ma va bene anche così. Altro che, Cody. Che c'è? Solo per sicurezza? È tutto sicuro qui? Ma certo. Eh, possiamo evitare i riferimenti alla sicurezza? Non ho niente incontrari. Assolutamente. Sono d'accordo. L'eccesso di sicurezza è quasi peggio che non averne affatto. Senti un po', Frankie. Che ne diresti di un briciolo di sana imprudenza a iniziare a fare frittelle per tutti? Ma certo, papà. E con un fiume di spremuta d'arancia. I cittadini hanno ripreso possesso di Griffin Rock con i soliti rischi, pericoli e incidenti. Ok, ragazzi. Vi ho promesso che smetterò di essere iperprotettivo. Ma devo per forza dimostrarvelo. Sicuro? Allora, ci vediamo al traguardo. Ma che fu? Ehi, così non vale. Ehi, dove dovete andare? Il sindaco ha insistito perché venisse aggiornato e reinstallato il vecchio computer centrale. Quanto a Vigil, che ne è di lui? Permettetemi di concludere la trasmissione di oggi augurandogli... Buon voyage! Salve! Il mio nome...